Sono 293.000 le assunzioni previste dalle imprese per il mese di agosto e 1,3 milioni quelle per il trimestre agosto-ottobre. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere e Ampal. Rispetto a un anno fa si registra una crescita di 8.000 assunzioni, sono 9.000 però i contratti in meno in riferimento all'intero trimestre. È il turismo a offrire le maggiori opportunità di impiego con quasi 62.000 lavoratori ricercati nel mese e circa 200.000 nel trimestre, seguito dal comparto dei servizi alle persone, dal commercio e dai servizi operativi di supporto a imprese e persone. Per il manifatturiero le maggiori opportunità di lavoro sono offerte dalle industrie della meccatronica, seguite dalle industrie alimentari, bevande e tabacco e da quelle metallurgiche e dei prodotti in metallo. Si mantiene elevata la difficoltà di reperimento che arriva a interessare il 47,5% delle assunzioni previste, circa 6 punti in più rispetto ad agosto 2022. Difficili da trovare oltre la metà dei profili che si occupano di installazione e manutenzione, progettazione e ricerca e sviluppo, sistemi informativi.